Un Casarano al completo in ottica Lavello. Buone notizie per il tecnico dei Salentini, Vincenzo Feola, il quale sorride in vista di domenica, dato che potrà contare su tutti gli atleti presenti in organico, eccezione fatta per Alessandro Longhi, esperto difensore che potrebbe averne per le lunghe dopo l'infortunio rimediato nel giorno dell'Epifania contro il Molfetta. Potrebbe dunque presentarsi l'occasione assoluta del titolare per Giuseppe Figliomeni, difensore che seppur acclavato dalla tifoseria fin dal giorno del suo arrivo a Casarano, ad oggi ha avuto modo di indossare la casacca del Serpente per soli 120 secondi da subentrato nel lontano 18 ottobre contro il Gravina. Inoltre, il trainer campano, dopo aver riscoperto un ottimo Alex Benvenga nel ruolo naturale di terzino destro nel corso del secondo tempo dell'ultimo impegno casalingo, potrebbe optare per diversi cambiamenti nel reparto retrato. Sarà dunque imbarazzo della scelta in ogni ruolo del campo per Vincenzo Feola in vista del big match contro il Lavello fuori dalle muramiche del Giuseppe Capozza.